Al termine di questo turno il Napoli chiuderà il girone d'andata in testa alla classifica. Se non sbaglio per lei è la prima volta. Volevo sapere che significato ha per lei, per la squadra e poi quanta voglia ha di restare nel Napoli anche dopo la scadenza del contrato in essere, se ne state già parlando col Presidente. Grazie mille. Ha il significato della classifica, cioè che siamo in testa alla classifica e che c'è ancora molta strada da fare e quello che conta è come si arriverà in fondo come posizionamento in questa classifica. Per cui non è che alleggerisca niente, anzi aumenterà quella che sarà la voglia di mantenere questa classifica qui. Per quanto riguarda le altre cose si ragiona nei tempi corretti, cioè per quanto riguarda i contratti, i discorsi. Non ci interessa niente di niente, ci interessa solo arrivare in fondo a questa stagione come vogliamo arrivare.